Intanto, però, l'alto scolto anno è l'alto scolto anno che porta e crea tutte le musiche di André in una recitazione pianistica meravigliosa. Bocca di rossa, magari, così sono più tranquilli anche loro, che sta facendo? Siamo fuori scaletta. Ce l'ascoltiamo da questa versione meravigliosa, perché poi non è solo poesia, la forza e l'intensità di una musica con un giro armonico semplice e diventato di stusismo pianistico pazzesco. Ascoltate Danilo Lea. Vedetelo anche, con un bel cappellaggio. Non c'è l'audio? Andiamo con l'audio. 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 Il primo maestro, diciamo. Un disco regalato dal padre, mi pare, è proprio importantissimo. C'è sempre un regalo che diventa poi, apre il talento dei nostri figli. Gli artefici sono stati i genitori, gli hanno regalato la chitarra, gli hanno regalato poi alla fine, insomma, o si sono assegnati o comunque inconsapevolmente si sono resi, diciamo, complici di questa scelta di Fabrizio. In fondo il padre che voleva l'avvocato, però, quando era giovanissimo, Fabrizio gli ha regalato questo figlio che gli ha dato poi tutto il talento artistico. E questo è bello, no? Che tutto torna poi in quello che facevamo all'inizio. E quindi, diciamo, Brassens a suo modo faceva delle ballate, però, alla francese, ma era una che, insomma, raccontava, era, diciamo, un po' il Dylan francese, ecco, perché ha lo stesso modo di vedere le cose. E poi, vabbè, c'è stata l'esplosione del ballata country, più che altra americana, insomma, un po' si sono tutti adeguati a quel sapore, ma Fabrizio, in qualche modo, direi che ha tradotto in modo incredibile, non solo in Alcoin, tanto che in Alcoin stesso, insomma, si era gratificato, gli aveva gratificato, si era messo in contatto proprio per dire che, insomma, aveva fatto una traduzione che aveva migliorato addirittura le sue canzoni, ecco, quindi... E quindi Fabrizio si è sempre affacciato, ha sempre amato il bello, non ha mai pensato di, da solo, di dover inventare chissà che cosa, è sempre stato, in questo senso, molto, molto umile, e molto critico con se stesso, però. C'è una canzone che nasce dopo una ballata dell'eroe, ma poi c'è, che era, parlava della guerra, no? Poi arriva la guerra di Piero, prima parlavamo di una curiosità che riguardava Piero, l'Albania, eccetera. Io credo che questa sia una canzone importantissima, abbiamo parlato degli ultimi, degli emarginati, ma anche il suo essere pacifista, ecco, la guerra era qualcosa di inutante, in quel periodo lì, nel periodo anche della formazione, del 68, la ribellione, tutto ciò che era, è un valore fortissimo, sentitissimo, adesso, quindi già, iniziamo, arriviamo a nulla. Purtroppo era convinto di aver cantato delle canzoni che sono, sì, state accolte, sono piaciute, eccetera, ma che in effetti poi si è reso conto che non sono servite a nulla, e questo lo ha dichiarato proprio, ecco, che no. Ma non è vero, rimangono un inno nel nostro cuore, in questo applauso meraviglioso che è un inno alla pace che ti ha lasciato. Comunque, queste sono delle disbonianze morti, importanti, che noi sentiamo ancora vive dentro e che ci emozionano ancora, basta sentirle. Prego. Grazie.